Ciao amici del Bruce Garage, buongiorno, buongiorno. Ciao amici, siamo con il mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara PdA. La macchina elettrica è come una figlia che non ce l'ha data. Allora cosa succede, benvenuti e bentornati all'Autodream. Ciao Danny, ciao Max. Siamo sotto la Fleetwood, va che bella, ammo nuovi. Guarda che roba. Allora è stato fatto un lavoro sulla marmitta, solo che abbiamo visto che c'è un punto che tocca. Ah eccolo lì dove va a toccare, guarda. Adesso in questo punto qua si muove e tocca. E cosa facciamo Danny? Niente, smogliamo tutto quanto e giriamo un po' il tubo. Sto guardando che di qua si può girare un po'. Spero, anche se di là è stato saldato, qualcosa ci inventiamo. Dai, inventiamoci qualcosa sul Fleetwood che deve andare a fare. Beh, cosa devi fare Max? La targa europea, no? La targa italiana. La targa italiana, sì, dovevo fare la visita adesso in... Per fare la fish. Per fare la fish e la metto appunto la natura a telaio. Italiana. La targa italiana. Sento, l'interiore destra che vivro un po'. Ma forse perché diceva Max anche che è stata un po' ferma. Forse sei le gomme, si sono un po' rovinate. Sì, scopriamo che braccetto. Che testina è andata. Conservata bene. Tagliando il motore, prossimamente. Ma va che bella, eh. Questa la macchina è il 91, ragazzi. E' quella perdita. Non è un problema. È la coppa. Sì. Eh, qua Max, vieni a vedere sta perdita qua, che a volte la pressione... No, 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 questo credo è che abbiamo fatto il cambio dell'olio del cambio. Ah? E questo qua probabilmente è una sudata che ha fatto quando abbiamo rimontato il... Ok. Perché c'erano addirittura dei bulloni che si erano spezzati. E infatti abbiamo dovuto rifilettare e rimontare il primo. Però mi sembra il lavoro fatto di spettamento, cosa dici? Sì, sì. Lavorare qua, non è... Quando c'è da lavorare su bulloni sfilettati... Eh. No, no, ma erano un po' più attaccati con l'ottite. E' presente lì il fermo a filetto? Va bene, dai. La macchina sotto è bella. Adesso sistemiamo sta marmitta, così quando va a fare la fish, il collaudo per la targa italiana, non abbiamo problemi di rumori. No, no, no. Non avete messo tanto bene. Tutta la poppa pulita completamente. o non ha delito bene la pasta che ci avete rimesso sopra, anche se qua avete una doppia pasta o non avete presa troppa. No, ma è serrata bene, perché è stata fatta una chiave di una metodo. No, è serrata, sono d'accordo, però guarda a caso, cioè perde proprio dai bulloni, vedi? Possibile anche magari che ne abbiamo messo troppo di olio e ha fatto un troppo pieno, più che altro sta cedendo un po' la guarnizione, però è relativo, non è una grandissima perdita, più che altro è incollato. No, magari è una cosa che ha fatto di viterli al momento e siccome è questo qua comunque olio a trasmissione. Ci sono le due testine di qua che sembrano leggermente scoppiati, leggermente. Leggermente. Il video sarebbe molto, molto handling questa cosa. Bisogna intanto dare una bella ripulita. E dai mettiamoci qua, intanto che lui fa la marmita puliamo anche qua, dai Max. Va bene, così vediamo. Sì ma io ho imparato una cosa sulle auto di epoca. Meno marchi esposti, ma dentro si procurano poi delle problemi. Ma questa è ciclistica, un lavoro che faremo indubbiamente al tempo. Adesso eviterei di toccarlo perché è bello ingrassato, così. Io lo vedo bello ingrassato. Sì ma cazzo, ma potrebbero averlo anche ingrassato, questo è sporco più grasso. Questo è stato messo poi quando hanno fatto gli amortizzatori, amortizzatori, amortizzatori sono nuovi. Sì. Gli amortizzatori sono nuovi, infatti la macchia va molto bene di ciclistica, le pizze sono state smontate e sistemate. Se vediamo sono lì, guarda. Ah, amortizzatori sono nuovi. Sì, si vede anche dietro. Ma anche di una buona macchia. No ma per fare un lavoro fatto bene dov'è svoltata tutta, le carrozzerie, i paraurti, cose. Vabbè ma è sana per essere del 91. Sì sì, ma una controllata generale, vista la provenienza, io la farei. ma forse non è dentro tutta fino in fondo per quello che fa quel gioco lì. non negli occhi, non negli occhi che sennò non mi ripieno. e poi lo passiamo. Beh adesso di spazio se ne è creato, eh. Non è giusto che riesco a mettere il moto, così. rispetto a prima. Perché Max dice che poi a caldo si dilata e lo inizia a fare un po' di più. Vabbè, tira la giù. Mettiamola in moto e facciamo un avanti Andre così la muoviamo anche un attimo. Perché prima ho notato che ha iniziato a farlo mentre c'era a seguito di una frenata. quindi frenando si muove la marmitta e iniziava proprio a tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Se tu accendi non lo fai, perché rimane con le vibrazioni e terra, è proprio al minimo che lo fai, ma lui per qui c'è uno di più. Se non le regole, se non le monti bene le marmitte, poi dopo fanno dei rumori allucinanti. Quindi vedete qui, il montaggio fatto di fretta ha creato poi dei rumori nell'abitacolo. Bastidiosissimi. Adesso è stata rimessa alla giusta distanza, stiamo facendo un po' di aerosol da 5.7 V8. E' buono un profumo. E' ovvio, guarda come buttava prima la macchina, la marmita, dopo che toccava. Sì, sì, sì. No, no, ma lo benissimo, perfetto. Sì, sì, da starissimo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Voi, vai, vai, vai dritto, vai dritto. Vai dritto, vai. Sono ben accelerato. Bene, bene. 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 Non vibra più, direi che ci siamo, eh. Non vibra più, Max, vero? No, c'è freddo. C'è freddo. Bene. Bene, Dani. Ottima regolazione. Anche sulle What's America, chiaro, problemi, ganeming. Quando si tratta di meccanica, c'è sempre una soluzione. Basta. Torniamo al garage pezzotti. Ciao, Max. L'avevo sganciato io per fare quel lavoro lì. L'ho sganciato. Qua ci mettiamo un po' di colla. È incollato. Vai, andiamoci a fare stoccar therapy. Ciao, Dani. Grazie. Ci vediamo domani. Ciao, Dani. Un abbraccione. Ciao. Ciao, Ed. Vai, Max. Facciamo la prova per sentire bene la marmita, anche se ci siamo accorti più o meno che dovrebbe essere stato fatto un lavoro preciso, perfetto, come sempre, Dani. Oh, ma Dani è bravo, comunque. Ce l'ha proprio dentro. Cioè, non essere meccanico lo devi avere dentro. Sì. Non basta sapere imparare. Un dono. Cioè, lui ha proprio il dono, devi essere paziente. E poi studia. Quando una cosa non gli torna, si ferma, ragiona, se la studia. Chiudi il vetro, per favore, così sentiamo bene il rumore. Ah, la marmita non tocca più. Senti anche in frenata. Perfetto. Perfetto, perfetto. Bene, ragazzi, bene. Bravo, Dani. Bravo, Dani. Autodrain24.it. Se avete bisogno, dite che vi manda al Bruce Garage, che avete anche uno sconto dedicato, sicuramente. Come ha dichiarato Dani in un video. Noi adesso ci facciamo mezz'oretta di car therapy e parliamo di cose un po' più importanti. Vi lascio in descrizione tutti i link per trovarmi anche sugli altri social. Mi raccomando, se vi va, iscrivetevi al canale. Che diamine sarà mai? Continuo a dirvelo. Mamma mia, la Martina. Buona passione a tutti da questa Cadillac Fleetwood Brogam Delegance del 1991 e da Max. Ciao ragazzi. Ciao Max. Andiamo avanti. Car therapy.